Che cosa troviamo nel Roadmaster Garage? Nel Roadmaster Garage troviamo prevalentemente veicoli americani che spaziano dagli anni 40 agli anni 80, veicoli un po' particolari tipo Buick, tipo Cadillac, qualche Dodge, qualche veicolo degli anni 20, tipo questa qui, le cappottabili che arrivate da qualche giorno. Uno dei pezzi del Roadmaster Garage è questa Pasch del 66, uno C10, customizzato, è stato preso in New Jersey. La Challenger del 73, una RT, molto bella, molto potente. Dodge Coronet del 1969, auto molto particolare, molto bella e abbastanza rara. Buick Special 1952, conservata al 90%, è stata fatta solo qualche piccolo lavoro di cromatura. Qui invece abbiamo una Dun & Flow del 50, Thunderboard, una macchina molto particolare, una Coupé del 73. Chevrolet PK del 1950, in stile Ratt, un Harley Davidson Electra Glide, una BMW del 34, una Jeep Willis del 1942, lasciata qui dagli americani, una Chevrolet Biscayne, un Coupé del 1959, è un auto molto particolare, è rara, molto molto rara. L'effetto Ratt l'abbiamo fatta noi, cioè, oddio, l'ho fatta io, mi piaceva, l'ho coltupata un po', e questo è l'effetto, ci ho dato il nome, si chiama la nuvola rossa. Special del 1956, una Coupé Hardtop, Ratt, molto Ratt, Rattizzata. Qui abbiamo una Ford del 1949, questa è la stessa macchina del film di Indiana Jones, è anche lo stesso volume. Sì, la stessa macchina del carrozzi, è un po' di quello che mi piaceva, però,